Benvenuti su The Wine Channel, io sono Francesco e oggi in questo breve video vi voglio parlare di due importanti novità del canale. La prima è lo spostamento dei video delle degustazioni dalla domenica al giovedì. Questo perché? Perché così avrete modo di poter eventualmente acquistare le bottiglie in tempo per il weekend. Il weekend solitamente è il momento in cui ci si ritrova più facilmente con parenti, amici e si può apprezzare meglio i vini che vi vado a proporre. La seconda novità è che la domenica non rimarrà orfana di appuntamenti ma anzi sarà sostituito da un nuovo format che appunto lancerò domenica. Quindi vi invito a seguirmi, come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanella per essere sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video. Mi raccomando quindi ricordatevi, la degustazione non è più la domenica ma il giovedì e la domenica invece nuovo format che presenterò appunto questa domenica. Per il momento vi saluto e ci vediamo alla prossima qui su The Wine Channel sempre con Francesco. Ciao!